Tra Alessia Macari e Paola Caruso potrebbe non esserci stata alcuna pace. L'abbraccio a cui il pubblico ha assistito durante l'ultima puntata di selfie e le cose cambiano nasconde dei retroscena resi noti solo oggi sui social dalla ciocciara. La vincitrice del grande fratello Vip era sembrata fin dall'inizio quella più scettica di fronte a un'eventuale riappacificazione. Non ha mai voluto parlare della Caruso, non dopo la prima l'Itin TV con parolacce e amnesse. Di fronte alla richiesta di Simone Aventura di fare pace non si è tirata indietro, ma è apparsa fin da subito la più scostante tra le due. A chiarire il suo punto di vista è bastato un post che la Macari ha scritto sui social poche ore dopo la fine della puntata. Abbiamo fatto pace? Strano, non ti sento da anni. Se vuoi essere la mia amica fatti sentire non andare a tutti i giornali. Quelle parole pronunciate subito dopo la fine della puntata le sono valse una valanga di critiche, al punto che la ciocciara si è vista costretta a eliminare il post, fingendo che nulla fosse accaduto. Diversa è stata la reazione della Caruso all'abbraccio avvenuto in puntata. Paola è apparsa visibilmente entusiasta all'idea di recuperare l'amicizia con Alessia. Proprio come lei che l'aveva accusata per prima pubblicamente, adesso si è detta disposta a dimenticare tutto e guardare avanti. Il livore che l'aveva dimostrato in passato è stato sepolto di fronte all'altare della TV, con la bonus di avanti un altro che sottovittera ha scritto. Ci siamo tanto diate, ma è perché ci siamo tanto ammate. Finalmente l'abbraccio che aspettavo da tempo. Quel post non ha convinto la Macari, che è rimasta di avviso diverso ma ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, limitandosi a non commentare oltre la questione. Chi se ne frega.